Oggi in questo video andiamo a vedere una mappa per ottenere davvero tanti xp e andare a sbloccare la nuova sabertrack qui su fortnite Prima mi raccomando vai lasciando un bellissimo like se anche tu vuoi livellare ora in questa season e ora iniziamo subito Prima passaggio è qui ad inserire questo codice che state vedendo qui a schermo Questa è una mappa e proviamo selezione Mettiamo la partita privata e gioca Ah mi raccomando codice creatore i coding gamer ci ottono due per ottenere tanti xp Perfetto una volta che siamo qui è molto facile per mandare a premere questo tasto a FK che ci traggia degli xp Ora prendiamo qualsiasi arma e io vado a prendere lo scar Qui dovremmo spawnare e dobbiamo andare esattamente verso questa direzione Andiamo qua dovrebbe uscire questo effetto Andiamo a fare un ballo ci muoviamo e ora ci vediamo fra 900 secondi Perfetto sono stato in questa mappa per circa 3 minuti ho sparato qui In totale alla fine sono arrivato a oltre 58.000 xp ma voi potete continuare per tutto il tempo Prendiamo il codice che sarebbe 226 andiamo a premere tasto confirm xp button Volemmo uscire scritto secret unlocked Ora abbiamo start a FK xp Prendiamo il rampino se lo avete già fatto Quindi lo premiamo ci porterà esattamente qui dentro E vabbè mi è crashato comunque vi faccio vedere che ho ottenuto 153.000 xp Bye